non possiamo che iniziare questa serie di appuntamenti che abbiamo ironicamente denominato censurarte da siena della nostra siena a poca distanza dalla biblioteca di aria umanistica giusto accanto alla sede del dipartimento di scienze storiche dei beni culturali nella chiesa dei servi in una delle prime cappelle della navata destra si conserva un'importante tavola mariana duecentesca una maestà cosiddetta madonna del bordone realizzata intorno al 1260 dal pittore fiorentino coppo di marcovaldo ebbene quest'opera ci interessa qui perché come è stato da tempo riconosciuto essa non si presenta oggi a noi nella sua nel suo aspetto originario in effetti a poco più di mezzo secolo di distanza dalla sua esecuzione quest'opera ha subito un vero e proprio intervento censurante le due teste della vergine e del bambino infatti sono state oggetto di una modifica e questo lo vediamo proprio a colpo d'occhio perché queste parti non appaiono stilisticamente coerenti con il resto del dipinto e il pittore diciamo intervenuto a modificare le teste era ormai pienamente aggiornato sulla nuova cultura figurativa duccesca e probabilmente identificabile con niccolo di segna quindi un maestro di due generazioni successive rispetto a quella di coppo di marcovaldo e questo reintervento è stato confermato poi dalle analisi radiografiche che hanno mostrato come queste teste si sovrappongano delle zone di pittura perfettamente integre quindi idealmente come è stato improvvidamente proposto si potrebbe addirittura pensare di riportare l'opera al suo stato primigenio abbattendo le ridipinture trecentesche rivelando quindi lo strato pittorico originario naturalmente questa operazione sarebbe del tutto antistorica noi siamo tenuti a conservare le opere proprio nella loro stratificazione in questo palinsesto che risponde al mutare delle coordinate storiche e culturali entro cui le opere continuano a vivere anche dopo la loro esecuzione però il fatto che le teste sottostanti siano perfettamente integre è importante e rivelatore perché ci fa capire che evidentemente il reintervento non fu dettato da esigenze conservative non fu un restauro allora ci dobbiamo chiedere perché le teste originarie furono coperte la prima risposta potrebbe essere quella di un semplice aggiornamento figurativo cioè la tavola di coppo pur oggetto di devozione evidentemente non era più ritenuta al passo coi tempi dai sienesi del primi decenni del trecento quell'aspetto stilizzato e arcano che ci si aspetta da un pittore come coppo di marco valdo non si sentiva forse più conforme a un nuovo orizzonte di gusto che privilegiava un'arte dei caratteri più naturalistici cioè improntata a una mimesi del reale piuttosto che una traduzione del reale in un linguaggio astratto e arcano questa risposta però non basta perché bisogna considerare che il caso della cosiddetta madonna del bordone non è isolato anche la maestà di guido da siena in san domenico presso che coeva forgetto più o meno alle stesse date di un reintervento analogo cioè un pittore di stampo d'uccesco intervenne a modificare le teste della vergine del bambino in una pelle nuova più naturale ci si potrebbe allora chiedere se questi interventi non siano dettati dalla volontà di conformare queste due importanti immagini mariane collocate in due delle maggiori chiese mendicanti di siena a un modello figurativo centralissimo straordinariamente importante che era stato nel frattempo licenziato ovvero la grandiosa maestà che duccio di buoninsegna realizzò per l'altare maggiore del duomo di siena completata nel 1311 evidentemente quell'immagine della madonna doveva aver assunto a siena un valore paradigmatico era quel volto era quell'aspetto che i senesi primariamente associavano alla vergine e possiamo quindi pensare che questi interventi sulle due maestà erano dettati da un'esigenza di conformitas rispetto a un modello autorevole che doveva essersi impiantato al centro della devozione dei cittadini nicenesi